agguato al ponte milvio vengono acciuffati e arrestati gli allobrogi per finta i catilinari sul serio e hanno in mano lettere compromettenti siamo ai primi di dicembre l'arresto dei catilinari viene dal cicerone drammatizzato in maniera abilissima si riunisce il senato immediatamente gli allobrogi questi vengono interrogati in pubblico la loro deposizione viene messa per iscritto ci sono i nomi di tutti i congiurati il sigillo di queste lettere viene riconosciuto quindi è impossibile negare processo il senato si riunisce come corte giudicante cosa che è illegittima può farlo e gli imputati sono colti sul fatto in flagranza di reato perché intanto perché l'arresto a ponte milvio e l'arresto di persone che si accingono a svolgere un'azione sovversiva ma poi quello che è scritto nelle loro prose diciamo nelle lettere che sono state sequestrate è una confessione quindi sono rei confessi dibattito senatorio cosa fare di questi nel frattempo catilina viene informato di questa catastrofe e quindi tenta di fuggire dall'italia viene bloccato e morirà sul campo a gennaio in una battaglia persa in partenza eroica quanto si voglia ma persa in partenza il 5 di dicembre si riunisce appunto il senato per giudicare questi re i confessi parlano nell'ordine prima i consoli designati per l'anno dopo quindi murena e silano poi pretori designati uno dei quali è cesare che è stato eletto per l'anno 62 pretore e poi via via seguire gli ex consoli c'è tutta una procedura all'inizio la proposta viene fatta da chi parla per primo e silano murena si associa e basta pena di morte il reato è talmente grave insurrezione contro la repubblica pena di morte parlano altri parla cesare che è un amico di catilina si è tirato indietro al momento giusto anche perché probabilmente non condivideva il radicalismo della cancellazione tucur dei debiti come si ricava anche dal commentario della guerra civile quando parla dei provvedimenti che ha preso lui in proposito e cesare fa un intervento abile noi lo sappiamo abbastanza ravvicinatamente perché sallustio addirittura lo costruisce scrive dalla parola cesare come un po nella storiografia antica costruendo un discorso a partire dall'argomento dalla sostanza nota di quel discorso ma in una delle quattro catilinarie di cicerone c'è una replica a cesare che fa capire che ha detto effettivamente alcune delle cose che sallustio gli fa dire il succo e da una parte grandi complimenti al console che ha salvato la repubblica grandi complimenti a silano vir strenus che ha proposto la pena di morte però a ben pensarci poiché l'anima è mortale la pena di morte non è una vera e propria punizione molto più grave la condanna all'ergastolo a vita e quindi propone di salvargli la vita in sostanza questi qui dicendo li piazziamo nei municipi sotto sorveglianza confisca dei beni il senato comincia a dargli ragione silano stesso richiede la parola dice ma in realtà io non sono stato capito come molti politici fanno non sono stato capito io ovviamente non volevo dire come si fa ad ammazzare un senatore romano uno lentulo e addirittura pretore quindi insomma un po grave si alza catone che più giovane catone svariati anni di meno è un coetaneo più o meno di salustio negli anni 88 86 di quegli anni lì ed è tribuno della plebe in quel momento e fa un attacco a testa bassa contro cesare ruotante sul concetto se quest'uomo se costui cesare non ha paura di quelli noi abbiamo paura di lui perché un complice senato ricambia posizione la guardia del corpo di cicerone irrompe nel senato e vorrebbe uccidere cesare sul posto cicerone fa un segnale e salva la vita a cesare che viene accompagnato fuori del senato perché rischia la vita e la proposta di catone viene approvata la proposta dice poiché questi cittadini scellerati sono insorti contro il potere dello stato sono stati rei confessi il che equivale alla flagranza di reato la pena è la morte supplicium sumundum arcaico latino però il problema qual è quando eseguire la sentenza è qui il punto delicato sul quale chiudiamo questa nostra troppo lunga chiacchierata salustio riferisce bene con grande precisione il finale del dell'intervento di catone che racchiude il testo del senato consulto che delibera per la pena di morte poi dice fu una scelta del console di eseguire immediatamente la sentenza e qui c'è un salto gravissimo se questi sono cives scelerati sono cives cioè sono cittadini e in quanto cittadini romani hanno il diritto di provocatio ad populum quindi possono bloccare poi magari andrà male però hanno il diritto di invocare i tribuni e chiedere ai tribuni di sottoporre ai comizia plebis se procedere in questa esecuzione capitale o no la lex sempronia garantiva ad ogni cittadino romano il diritto alla provocatio ad populum quindi è stata violata una norma fondamentale una conquista giuridica fondamentale cicerone prende per mano lentulo e lo porta al carcere mamertino la cui immagine forse era in questa slide come viene chiamata che avevamo sott'occhio credo che sia visibile carcere mamertino che è interrato un luogo lugubre descritto da sallustio con tocchi artistici molto efficaci e assiste allo strangolamento il boia strangola lentulo sura sotto gli occhi di cicerone gli altri battiscono la stessa sorte lui esce è vicinissimo al al tempio della concordia dove si era riunito il senato e dice a gran voce ad una folla che si era riunita là fuori vixerunt sono morti perché dice questo plutarco al quale dobbiamo questo racconto e che usava i commentari di cicerone sull'argomento dice l'ha fatto perché era convinto che quella folla si preparasse a fare un atto di forza per salvare i detenuti quindi dire sono già morti non c'è niente da fare era la maniera per chiudere la partita cicerone raccontato tutto questo in opere che non abbiamo più per fortuna il bravo plutarco le ha lette le ha riassunte e sono di un'estrema autolatria autoesaltazione falsificazione ma il seguito fu drammatico il seguito fu che qualcuno cominciò a dire ma il verbale è stato falsato evidentemente al posto della parola cives cittadini è stata messa la parola hostess nemici perché la finzione era che erano stati proclamati hostess pubblici e quindi avevano perso la cittadinanza e come tali potevano essere uccisi immediatamente su questo cicerone ha avuto un inciampo gravissimo è stato costretto all'auto esilio perché qualche d'uno che lo detestava il tribuno della plebe clodio è riuscito a dimostrare che quel verbale era stato falsificato uno straordinario racconto uno straordinario affresco di una vicenda nota ma ricostruita qua con una vivezza e una competenza direi straordinaria ma la domanda che emerge naturalmente è che cosa questa storia che ci hai raccontato ci dice della drammatica crisi no della repubblica romana che di lì a poco poi porterà porterà gli esiti che sappiamo in che maniera questa vicenda è già un segnale del futuro di un futuro in qualche modo già iscritto nella sì direi che ancora una volta dobbiamo far capo sì forse la voce vi giunge sì dicevo dobbiamo far capo ancora una volta a questo puscolo salustiano del quale come vedete io faccio continua propaganda dando rilievo alla sua efficacia alla ricchezza di informazioni perché dentro quel piccolo libro c'è un capitolo il capitolo 39 che un po' un ford opera cioè è una sorta di digressione intenzionale d'autore naturalmente in cui salustio fa una considerazione un po' singolare uno just era un protaro insomma è un po' la cronologia stessa imbarazzante cioè lui dice dopo che pompeo è andato in oriente l'oligarchia senatoria ha preso il sopravvento però poi vennero fuori dei tribuni che la contrastavano catilina e non si capisce il nesso fra questi tribuni e catilina catilina avrebbe potuto anche vincere ma lo scontro sarebbe finito con la sconfitta di entrambe le parti essendo entrambi esausti da questa lotta tremenda in cui catilina magari poteva anche emergere come vincitore quindi lui si immagina una guerra civile combattuta nella città di roma e uno qui plus posset uno molto più potente avrebbe tolto la libertà ad entrambi ad entrambi gli schieramenti strana questa storia perché quando lui scrive non solo sa come sono andate le cose sa che catilina non solo è stato ucciso in battaglia ma non è riuscito neanche a indescare questa insurrezione nella città non ce l'ha fatta i suoi uomini sono stati beccati in maniera così puerile sa anche cosa è accaduto molto dopo per quando scrive quest'uomo salustio nasce nell'86 muore a 51 anni molto abbastanza giovane si mette a scrivere dopo la morte di cesare dopo che cesare è stato ucciso nel marzo del 44 alquanto dopo un anno dopo due anni dopo non sappiamo probabilmente quando ormai già si è instaurato il cosiddetto secondo triunvirato cioè hanno preso il potere ottaviano antonio e lepido quindi sa che la repubblica è finita con una presa del potere personale da parte di cesare il quale si è attribuito come aveva fatto silla la dittatura ma la protratta rinnovandola di continuo e addirittura mese prima di essere assassinato in pieno senato ha ottenuto una dittatura fino all'espletamento delle campagne che si riprometteva di combattere probabilmente in partia di solito si dice la dittatura vita l'espressione latina dittatura perpetua vuol dire un'altra cosa vuol dire il console o anzi in quel caso il dittatore ha assunto un impegno di grande importanza e difficoltà finché non lo espleta è dictator lo sappiamo perché è venuto fuori un documento un piccolo documento in cui si legge che anche il suo magistere equitum lepido era magistere equitum perpetuus cioè per il completamento di queste imprese comunque ha rinnovato di fatto la dittatura dal gennaio del 49 fino al momento in ammazzato cinque anni abbondanti san lusso sa tutto questo quindi sa che la crisi della repubblica è finita in un potere personale fortissimo ma sa anche che è finito male anche il detentore di quel potere personale e lo dice apertamente nella giugurtina nel terzo capitolo giugurtina dice che reggere repubblicam con la forza vi reggere repubblicam può anche essere importante correggere errori essere giovevole ma è importunum e produce conflitti quindi sa benissimo tutta la parabola gli è nota che cosa si coglie in quel capitolo 39 che lui descrive la genesi del cesarismo il cesarismo è la presa del potere quando come dice il compagno gramsci le forze in contrasto sono a prospettiva catastrofica cioè nessuna delle due può prevalere che poi il nucleo del concetto gramsciano di cesarismo che credo sia un concetto molto fecondo e che si trova già molto accennato in una delle pagine finali della storia di roma di momsen che gramsci certamente leggeva traduzione italiana di sicuro ma sapeva bene anche il tedesco ma era stata tradotta per la utet a torino quando lui era studente universitario quindi è chiaro che una sua lettura direi per assodato e ha colto e sviluppato in modo molto efficace questo concetto del conflitto conflitto a prospettiva catastrofica quando nessuna delle due parti può prevalere allora qui plus posset si afferma ed è esattamente quello che san lustio dice nel capitolo 39 quindi questo è il quadro